Buongiorno, buona giornata da Gran Gale in Cucina. Come vedete sottofondo della nostra pentolona, come le streghe, abbiamo praticamente un piatto di verdura e che faremo con queste verdure veramente gustose, per genuine, per light, per tutti i palati. Facciamo un minestrone alla lombarda. Tutte le verdure, quelle che volete, che vi piacciono, le mettete, fate rosolare, bollire e metteteci pasta e riso e così è fatta. Poi, noi siamo su Facebook, Instagram e YouTube, aprite la nostra campanellina di Natale, non ve ne pentirete, e metterci tanti like like, fate andare sulla nostra pagina, fatela conoscere, è veramente gustosa. e, che dire, ci vediamo fra poco con il nostro bel minestrone, con questo freddo, fa bene, a ogni età. Ciao, a fra poco da Gran Gala.